oggi nipotini miei è il compleanno di luna marì questo il video ufficiale un emotional video chiamiamolo così di auguri di buon compleanno fatto dalla zia lucia spinalbese allora guarda sono tutte clip inedite che dovete guardarvi perché è veramente bellissima sta bambina e qui è molto piccola è cresciuta è diventata una signorinella incredibilmente educata incredibilmente carina anche con la mamma con belen con le zie veramente ha preso molto sia di belen ma anche di antonino perché anche antonino ha una sua grazia una sua delicatezza come uomo guardate la qui che bella che è e guardate alcune clip forse le abbiamo già viste in passato altre invece sono inedite per chi si fosse perso lo short pubblicato qualche minuto fa di luna marì in spiaggia ecco lo ripropongo ci vediamo il prossimo video un grande bacione ciao